Ciao ragazzi e benvenuti al mio primo video ASMR, lo pronuncio in italiano, sono super emozionata penso proprio uno dei video in cui mi sento proprio, non dico a disagio, ma un pochettino perché parlo a bassa voce, ma la modalità ASMR è uno dei miei video che negli ultimi anni mi ha aiutato un sacco insomma a rincazzarmi, quindi spero insomma di fare lo stesso con voi, quindi abbiamo votato per il sondaggio quindi c'era tra il burritos, roppetta cinese e altre cosette, c'era anche la pizza, avete votato pizza e patatine siccome il mio amore sta fuori con gli amici mi sono detta, sai che c'è, stasera faccio proprio il video ASMR e me mangio patatine e pizza questa qui è quella roncadine, io lo farò vedere, guardate quanto è carino, che è la mozzarella ovviamente finta allora, che emozione, ma proprio super emozionata allora, spero che i ruoni siano piacevoli, quanto meno piacevoli allora andiamo a tagliarci questa buonissima pizza, ti ho già provato, quella che ho già già anticipato in un precedente video Fufi non ci provare proprio, Fufi non ci provare cioè, mai fatto, no, si stava di cipollino, Fufi, scendi giù, Fufi ho sentito le fusa no, Fufi, no scendi basta scendi giù, cammina, forza, ma che è sta moda ragazzi, è un gatto furastico che non è cresciuto con noi, quindi scendi giù no, non in punto a tavolo, devi scendere giù forza scendi, ti tiro giù i bagazzini abbiamo fatto avete scelto un video ASMR per quanto riguarda il sound, quindi i suoni del cibo però talking, quindi chiacchierato, quindi questo sarà così poi vedremo gli altri, se faremo il not talking, non lo so però sono contenta, insomma, anche perché volevo un po' raccontarvi da dove nasce questa passione per l'SMR, perché non a tutti piace perché alla fine si sente il suono del cibo masticato chiaramente, quindi se non vi piace chiudete subito il video il suono del cibo masticato mi piace, se è soft, se è fatto così, no, non mi piace se è una cosa soft, si, mi rilassa un sacco e poi ho conosciuto il video e i video ASMR con gli stranieri quando mi è venuta a mancare nonna, quindi dicevo proprio ho bisogno un po' di rilassarmi soprattutto prima di andare a dormire e mi aiutavano un sacco, non ad addormentarmi, c'è pure chi ci si addormenta io non ci riesco ad addormentarmi, perché insomma le chiacchiere un po' così soft mi aiutano un po' di più a rilassarmi piuttosto che addormentarmi e quando non è venuta a mancare mi hanno aiutato un sacco questi video quindi spero insomma di far rilassare anche voi non faremo solamente questi qui del cibo, quindi mangericci ma faremo anche un sacco di altre cose come roleplay, trigger, insomma tutti quei suoni meravigliosi che io adoro se sentite rumori strani e fufi fatemi anche sapere se questo suono vi piace se è abbastanza delicato, se è troppo forte, insomma essendo il mio primo video quindi fatemi sapere se vi piace, a me piace quello che sento nelle radioline soprattutto se avvicino il microfono, però aspettate forse è meglio così che dite fatemi sapere un po' è una delle mie pizze preferite c'è anche la marinara guarda la liti, la liti anche se si chiama marinara non c'è niente a che ne decolpisce solo pomodoro guarda la piccia cosa pietro è troppo forte? pensavo di fare pure non so se stasera ma sicuramente domani il lavaggio dei pennelli quindi con i suoni dell'acqua e il rumore dei pennelli passati sul microfono non vedo l'ora di fare giuro sono emozionatissima sono emozionatissima perché mi seguo un bel po' di canali stranieri sull'SMR soprattutto una ragazza inglese di cui non ricordo il nome va ve lo metto sotto in info box che mi fa pazzi quando fatti nei capelli mamma mia per cui sei emozionata spero che vi piacciono questi suoni non a tutti piacciono i suoni del cibo è normalissimo a me invece riazzano se sono come vi ho detto prima soft sì se sono troppo ciancica che a bocca aperta no non mi hanno proprio si sentono così e come avete detto voi i talking quindi quelli chiacchierati sono più piacevoli ma non li resta di più pure a me però faremo anche quelli not talking soprattutto quando mangeremo i tacos 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 perché sono più rumorosi sono tipo crunchy proprio estremo ok ne vediamo un po' di tutto poi troviamo quelle che più ci piacciono mi sta a venire fame più che sono c'è fuvi di lontano poteniamo più piacqua inquiet a far funzionare lui avevo preso il microfono un mesetto fa non funzionava l'ho rimandato da Amazon che appunto se l'ha ripreso e me l'ha mandato un altro questo qua funziona il primo invece non faceva tutto il rumore di fondo non sentivo manco bene le radioline invece così sento bene il suono subito io ho detto che con l'ASMR non mi ha dormito però mi rilazzo un sacco soprattutto scaccio via pensieri negativi magari questo non è proprio il genere di quelli che ti fa passare che ne so i pensieri però vedrete che con i prossimi video magari proveremo tanti altri suoni vi rilasserete sicuramente poi una scusa per mangiare si 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 Sì invece sono crocchettine di patate sono quelle dell'Eurospin sono un pochino meno saporite di quelle di cornante quelle di cornante sono più buone questo microfono è spavoloso non so si prendere qualche cosa per appenderlo sopra e quindi avere un suono diverso piuttosto che così sono un po' scopoda però dico che per iniziare come primo video va bene poi vediamo fatemi sapere se va bene pure così perché non vorrei che sentite troppo il respiro mio penso che così va bene è buona questa pizzetta la di Roma non va a cucinare niente che poi è pure tardi faccio a trappoghino tornerà pure Harry mi troverà a mangiare mi ha lasciato che mi stavo a fare l'aperitivo e mi ritrovo a che mangio cosa devo a mangiare io? non mi sa che c'è Fufi che sta a fare i croccantini se sentite il rumore ho visto il forno che si è crocchiato mi ha lasciato Grazie a tutti. Grazie a tutti. Vi faccio dei pennelli, tutto è un video bellissimo, mi ricordo di fare sempre il samelle, solo che fuori voi sapete c'è stanno le cicale, c'è sto rumore bellissimo, rilassante, solo che insieme agli altri suoni non è carino, mi prende tutto con le macchine. Non so quando c'era questo video, il 26 esce, fino al 27 finalmente su Netflix, 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 Netflix. E c'è Orange J's and No Black, la stessa stagione, vedo ora, vi piaccio la e ciao, ne proprio... Io spero sentirete un buon suono, almeno quanto quello che sento io, che non sia troppo ciaccicato, ecco l'appesibile. E' il burro, è un pietro. Pietro, 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 pietro. come sta la scocchiavella vi devi sentire tanto il respiro mio perché giuro sono aggitata sono contenta di fare questo video però sono un sacco aggitata che è il mio primo non vedevo l'ora di farlo non vedevo l'ora di fare i roleplay mamma mia non vedevo l'ora però su quello mi sto un po' allenando un po' a prendere dimestichezza pure col suono, col microfono quindi inizio con questi che sono un pochino più facili cecchiavella più una è buona pizza a patatine mamma mia ho pure le brocchettine so pure mozzurrata sento un fiatore ma quando torna Harry pensavamo di essere un pochettino prende un gelatino per me è un ghiacciolo così si senti mai io alzare un pochettino che ti devo così senti mai io facciamo vari prove senti mai io vero io ho 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 senti mai Grazie a tutti Sì E' un po' di più Mancora toga di ciò inizia Poppasta un po' di più un po' di più un po' di più ... 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 Niente ragazzi Io vi mando Un bacio grande grande Fatemi sapere insomma come è andato questo mio primo video Se sono stata promossa O rimandato a settembre Io ci siamo Un bacio ancora grande grande Ci vediamo alla prossima Ciao